Vi sveglio i segreti per fare il carciofo alla giudia perfetto! Come prima cosa preparatevi una boule con dell'acqua e del limone spremuto. Ci metterete i carciofi, in questo caso le mammole, una volta puliti dal gambo e dalle foglie esterne. Levate anche la barbetta interna e apriteli un po' con le mani. Ma avete sentito il rumore di sottofondo? Bene, è l'olio d'oliva che frigge. La prima frittura va fatta a temperatura più bassa, circa 130 gradi. Scolateli e poi condite con sale e pepe. Friggeteli di nuovo a 175 gradi fino a doratura. Guardate che belli e quanto sono croccanti!